Operazione Perla Nera, duro colpo alla corruzione e al malaffare tra esponenti della pubblica amministrazione di Caltanissetta e dell'imprenditoria, inferto congiuntamente dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri di Caltanissetta, con l'esecuzione dell'ordinanza a firma del GIP del Tribunale Nisseno, la dottoressa Maria Carmela Giannazzo. Nella mattinata di oggi, 13 aprile, a Caltanissetta i finanzieri del nucleo di polizia tributaria appartenenti al GICO, gruppo investigazione criminalità organizzata, hanno tratto in arresto sei soggetti posti ai domiciliari. Un dirigente, l'architetto Armando Amico, e un funzionario, l'ingegnere Giorgio Salamanca, dell'ufficio tecnico del comune di Caltanissetta. Un funzionario, geometra Daniele Silvio Baglio, del comune di San Cataldo. Due imprenditori edili, Calogero Ivano Vennero, di Caltanissetta, e un imprenditore edile, Salvatore Ficarra, di San Cataldo. Contestualmente sono state notificate le misure interdittive della sospensione dall'esercizio dell'ufficio pubblico per la durata di un anno, nei confronti di altri due funzionari sempre del comune di Caltanissetta. L'ingegnere Salvatore Lanzafame e il geometra Salvatore Longo, entrambi impiegati nell'ufficio tecnico. Sospensione di un anno anche per Claudio Bernardo, dirigente dell'ufficio servizi finanziari del comune di Caltanissetta. Nonché i provvedimenti di sequestro preventivo aventi ad oggetto le due imprese edili riconducibili ai fratelli Vennero, la 2V Costruzioni SRL e la ditta individuale Vennero-Calogero. I conti correnti riconducibili ai destinatari dei provvedimenti restrittivi, nonché mezzi e beni strumentali delle predette ditte, per un valore complessivo di circa un milione e mezzo di euro. Congiuntamente i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta hanno notificato la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio dell'ufficio pubblico per la durata di un anno, nei confronti di Di Palma Vito, direttore del servizio cimiteriale del comune di Caltanissetta. Nonché la misura interdittiva del divieto di ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche o di imprese per la durata di un anno, nei confronti di Angelo Bellomo, legale rappresentante della società di mutuo soccorso Regina Margherita. Rosario Scancarello, legale rappresentante della società di mutuo soccorso Mutua Società Cattolica Maria Santissima della Catena. Rivituso Giovanni, legale rappresentante della società di mutuo soccorso denominata Militari in Concedo. Oltre alle misure cautelari, il provvedimento in esecuzione ha disposto anche il sequestro delle società di mutuo soccorso sopraindicate, oltre alla SMS Rosso di San Secondo e la Ollus AMS sezione Calogero Zucchetto. È emersa una fitta rete di relazioni e di interessi di natura interpersonale, in virtù dei quali gli imprenditori edilico e involti nelle indagini potevano contare su canali privilegiati con i centri decisionali del comune di Caltanissetta e di San Cataldo, riuscendo così di fatto, con il loro aiuto, a bypassare le norme che regolano la specifica materia degli appalti pubblici e quindi a beneficiare di agevolazioni e di aiuti di varia natura. Un vero e proprio sistema salamanca, attraverso il quale il funzionario comunale, insieme con l'architetto Armando Amico e l'ingegnere Salvatore Lanzafame, esercitava il controllo sull'imprenditoria edile. Nello specifico, dalle indagini, emerge come lo stesso Salamanca, servendosi di un fitto reticolato di conoscenze, nel tempo formatesi nel monto dell'imprenditoria e delle libere professioni, proprio grazie all'importante funzione pubblica ricoperta presso l'ufficio tecnico del comune di Caltanissetta e strumentalizzando così i poteri connessi al suo incarico, è riuscito a pilotare l'aggiudicazione di appalti pubblici a favore di imprese edili a lui vicine o addirittura a lui stesso riconducibili, chiaramente quale socio occulto, come nel caso della società 2V Costruzioni SRL dei fratelli Vennero. In altre circostanze, disattendendo quelli che sono i doveri propri di un pubblico funzionario, l'ingegnere Salamanca invitava Daniele Silvio Baglio e Salvatore Ficarra, entrambi riferibili alla Ediltecnica Costruzioni SRL, impresa realizzatrice del parcheggio di via Medaglie d'Oro Galilei di Caltanissetta, ad avvalersi di liberi professionisti a lui vicini per il rilascio delle società-organismi di attestazione, certificazioni indispensabili per la prosecuzione delle attività edili. Anche per l'architetto Armando Amico le investigazioni hanno fatto emergere una serie di condotte sicuramente lontane dai doveri di correttezza e imparzialità, prevalentemente sostanziatesi nella mancata comunicazione agli organi preposti ai controlli di circostanze e situazioni di irregolarità a lui note, come ad esempio il ruolo occulto ricoperto dal funzionario del Comune di San Cataldo, Daniele Silvio Baglio, all'interno della Ediltecnica Costruzioni SRL, o nell'attestazione in atti pubblici di situazioni non vere, anche al fine di aggirare i previsti controlli e di facilitare la predisposizione di sal e di certificati di pagamento. Per l'ingegnere Salvatore Lanzafame sono state ricostruite tutte le sue certificazioni redatte in qualità di coordinatore per l'esecuzione di lavori pubblici, con le quali aveva attestato falsamente o l'avvenuta esecuzione di controlli presso i cantieri o la regolare verifica degli adempimenti normativi previsti, a favore chiaramente di quelle imprese edili, come l'Ediltecnica Costruzioni SRL, vicine ai funzionari e ai dirigenti comunali coinvolti nelle indagini. Per il geometra Salvatore Longo sono emersi i suoi contatti con il dirigente comunale, l'ingegnere Giorgio Salamanca, nell'esecuzione di tutti quegli adempimenti, con il chiaro intendimento di velocizzare l'iter burocratico, agevolando così soltanto quelle imprese edili inserite nel sistema. Al filone investigativo approfondito dal nucleo di polizia tributaria della locale Guardia di Finanza si è affiancato quanto emerso da parallela indagine condotta dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Caltanissetta, inizialmente avviata a causa del rinvenimento di resti ossei e teschi all'interno di una cappella gentilizia presso il locale cimitero e successivamente focalizzata sulla gestione del cimitero di Caltanissetta. Gli iniziali accertamenti condotti dai carabinieri hanno permesso di rilevare come la gestione delle sepolture presso il cimitero Angeli fosse caratterizzata da evidente superficialità, scarso controllo e notevole approssimazione. L'assoluta sproporzione inoltre è risultata nel numero di loculi disponibili tra quelli comunali praticamente inesistenti e quelli gestiti in concessione dalle società di mutuo soccorso o da altre associazioni. Le associazioni in questione infatti sono le uniche detentrici di loculi disponibili presso il cimitero Angeli di Caltanissetta già da diverso tempo. Stante l'assenza di costruzione di nuove sepolture comunali e di lavori finalizzati alla rotazione dei fornetti occupati dalle salme di più datata sepoltura. Singolare che il comune di Caltanissetta si debba rivolgere alle associazioni pagando la relativa quota per la sepoltura di indigenti. Le associazioni in questione hanno una grande disponibilità di loculi dovuta alle abnormi concessioni che il comune aveva loro rilasciato nel 2011. Le indagini dei carabinieri hanno permesso anche di stabilire con certezza che le associazioni operavano un vero e proprio commercio delle sepolture vendendole anche ai non soci e che i responsabili del cimitero omettevano sistematicamente qualsivoglia controllo sul rispetto delle regole. Il cimitero, gli uffici tecnici del comune, il servizio cimiteriale, l'ufficio tecnico hanno abdicato alla funzione pubblica di garantire la disponibilità di sepolture di fatto facendola gestire a queste società di mutuo soccorso le quali operavano come veri e propri operatori commerciali utilizzando la vendita, cosa che in realtà non si può neanche fare perché parliamo di concessioni, la vendita di queste sepolture a soggetti indipendentemente dal fatto che queste persone poi fossero membri o meno, soci o meno delle società stesse. Parliamo del conto intestato al comune che non spunta in bilancio Sì, praticamente le società di mutuo soccorso hanno pagato gli oneri al comune per poter costruire e gestire queste sepolture questo denaro, secondo il regolamento comunale, andrebbe destinato a servizi cimiteriali di fatto noi questo denaro lo abbiamo trovato su un conto del comune ma non lo abbiamo trovato in bilancio quando abbiamo chiesto spiegazioni al comune circa i motivi per cui questo denaro non è stato messo a bilancio ci è stato detto che il comune aveva intenzione di fare un programma per l'ampliamento del comune, del cimitero e dei servizi cimiteriali ma di fatto dal 2011 a oggi il comune non ha mai impiegato una lira di quel denaro per questo tipo di servizio Sì, l'indagine è partita attraverso una serie di segnalazioni che evidenziavano come alcuni appalti del comune venivano dati in modo irregolare da qui abbiamo sviluppato una serie di attività di indagine anche attraverso l'utilizzo di intercettazioni tecniche ed ambientali e abbiamo poi sviluppato tutta la parte che riguardava le relazioni patrimoniali che intercorrevano tra i soggetti del comune, gli imprenditori e questo attraverso anche grazie alla collaborazione dello SCICO del Servizio Centrale di Investigazione della Guardia di Finanza che ha messo a disposizione un sistema denominato molecola che proprio permette di evidenziare tutte le relazioni patrimoniali ed economiche Alla fine delle indagini abbiamo potuto constatare che la perpetrazione di vari reati quello di abuso d'ufficio, quello di corruzione, di concussione di falso ideologico e di falso materiale tutti questi reati venivano posti in essere al sol fine di favorire delle società nella giudicazione di appalti società che in parte erano anche riconducibili in ultima nasi al Salamanca Perché appunto sistema Salamanca? Era lui che gestiva tutto? Era lui che è il perno di tutto questo sistema e gli altri soggetti erano asserviti a questo sistema ma per delle utilità come abbiamo detto prima da ravvisarsi anche nell'assunzione di familiari erano asserviti a questo sistema Grazie! 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 Grazie!